Oggi un nuovo tutorial di unia decorata E oggi faccio l'arte di Snoopy Che è un personaggio molto fofo della vignetta Quindi, qui faccio... Pintare tutta la unia di Daisy di marrone E poi pego branco e faccio tutta la figura di Snoopy nella unia Di branco Tiene che essere un poco preciso, eh? Perché è complicato È abbastanza complicato questa nell'arte È più o meno complicata come quella di Hello Kitty Então, qui vocês podem ver come ficou la figura E poi faccio l'amore e poi faccio l'amore E qui è la parte più complicata perché deve essere molto preciso E qui, anche qui faccio l'amore E qui, qui, vuoi fare un rosto Due Snoopy All'oreglia Un'arista E uso olio E qui, anche dietro Ecco, penso che l'anell'art è terminata da questa parte, perché non so come si parla in portoghese, a casa nostra è pollice, non so come si dice in portoghese quelle parole del dito. E poi l'anell'art è terminata. La gente manda un saluto grande tra Sirlene Amorin, che è la che ria molto l'anell'art. Un abbraccio da Desi e Avri e a te mai gente. Ciao ciao!